Musica Buonasera dal Tg Max, in apertura c'è la politica dopo una maratona lunga 24 ore tra sospensioni e rinvii. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che di fatto salva la società Abruzzo Engineering messa in liquidazione dalla passata giunta di centrodestra. Si è conclusa così con l'applauso commosso dei dipendenti di Abruzzo Engineering dopo una nottata di lavori in Consiglio regionale la seduta dedicata all'approvazione del progetto di legge Pietrucci che prevede un intervento finanziario straordinario per il salvataggio della società mista pubblico privato. Adesso noi abbiamo salvato Abruzzo Engineering, viene rimosso il suo stato di liquidazione, può tornare ad essere una società normale ha un piano industriale che permette di lavorare, potrà tornare a lavorare a tempo pieno e con più unità sulla ricostruzione cosa che per noi è fondamentale non solo per l'Aquila ma per l'intera regione. Ma prima di essere dirottata ad occuparsi di ricostruzione dopo il terremoto, Abruzzo Engineering era stata creata nel 2007 quando a governare la regione era Ottaviano del Turco con lo scopo di digitalizzare l'Abruzzo un obiettivo mai raggiunto, almeno per quanto riguarda gli interventi di cablaggio per la banda larga non portati a termine. Per questo motivo spesso Abruzzo Engineering è stata definita il carrozzone della politica. Il provvedimento approvato oggi con l'opposizione del Movimento 5 Stelle ed il silenzio assenso del centro-destra prevede che Selex, gruppo Finmeccanica, ceda tutte le sue quote alla regione, il 30%, guadagnando 5 milioni in due anni anziché i 35 pretesi inizialmente. Noi qui abbiamo votato il salvataggio della regione, prima che il salvataggio di Abruzzo Engineering cioè abbiamo votato, abbiamo scongiurato che sulla regione si abbattesse un debito di 35 milioni di euro. La regione dovrà poi versare 2 milioni del fondo di liquidazione, operazione stabilita dall'Aggiunta Chiodi ma mai messa a bilancio. La partita resta aperta per i 10 milioni di debito con Monte dei Paschi di Siena. Nella vita precedente Selex tra le tante stranezze che ha in qualche modo percorso in questa vicenda ha anche fatto questa procedura assolutamente irrituale di fare un debito, cioè un debito prosoluto. Chi insomma si siederà si siede da posizioni di una certa forza a trattare con questa banca e quindi con la possibilità, la speranza, l'impegno a ridurre di molto sia il debito e sia l'impatto che il debito ha sulla società. L'Abruzzo torna al passato e si trascina dietro un enorme carrozzone che sarà pagato con i soldi dei cittadini così l'ex governatore Gianni Chiodi ha commentato l'approvazione della legge per il salvataggio di Abruzzo Engineering. Dalla messa in liquidazione disposta dall'ex giunta regionale capitanata da Gianni Chiodi al ripescaggio effettuato dall'attuale giunta di centro-sinistra guidata da Luciano D'Alfonso. Il carrozzone di Abruzzo Engineering è di nuovo in pista grazie alla legge approvata e nottata dal Consiglio regionale. Un ritorno al passato, ha dichiarato Gianni Chiodi, si è tornati ad utilizzare i soldi degli abruzzesi per la sanità privata e per i carrozzoni. L'Abruzzo torna al passato e trova le risorse che sono risorse degli abruzzesi per la sanità privata e per i carrozzoni. Esattamente il contrario di quello che noi abbiamo cercato di fare negli anni in cui abbiamo governato perché queste risorse sono degli abruzzesi e devono essere spese il meglio possibile non sacrificando l'assistenza territoriale per esempio per finanziare la sanità privata oppure erodendo quelle che sono le risorse regionali degli abruzzesi e non riducendo loro le tasse per finanziare i carrozzoni. Noi siamo profondamente costernati di questa decisione tra l'altro ci sono anche situazioni simili di altri enti e di altre società che versano in una situazione di difficoltà e i cui dipendenti si trovano a dover far fronte con le crisi internazionali e nazionali. Insomma, voglio dire, qui si è fatta una scelta che è quella di riaprire un carrozzone che a mio giudizio e noi abbiamo messo in liquidazione peserà notevolmente su quelle che sono le possibilità della regione Abruzzo di investire su questioni produttive. 170-180 dipendenti in più, poi arriveranno i dipendenti delle province credo che saremo una delle regioni italiane in sostanza a dover avere una percentuale di personale più alto veramente in Italia. Sono circa 7 milioni, 7 milioni e mezzo di euro l'anno per i prossimi anni e che potranno essere fino a quando non arriveranno alla pensione. ben per loro, per carità, tuttavia non è lo stesso trattamento che viene riservato a tutte quelle situazioni di difficoltà che vivono molte famiglie abruzzesi, sia del comparto pubblico che del comparto privato. È un assorbimento di risorse senza una reale contropartita in termini di, come posso dire, di vantaggio reale per il sistema economico. E contro la legge su Abruzzo Engineering ha votato il Movimento 5 Stelle un inutile maratona, hanno detto i pentastellati, per decidere di continuare a sperperare i soldi dei contribuenti abruzzesi. Dopo l'operazione prevista nell'accordo tra la Giunta regionale e Selex, Abruzzo Engineering sarà una società pubblica a tutti gli effetti, partecipata al 90% dalla regione Abruzzo e al 10% dalla provincia di L'Aquila. Proprio per questo il voto contrario è arrivato dal Movimento 5 Stelle che ha sollevato diversi dubbi legati al fatto che i dipendenti delle società in house dovrebbero essere assunti per concorso. Noi crediamo che al limite bisognava prima fare una liquidazione e poi, se era strettamente necessario, costituire una società in house. Però le società in house prevedono che le assunzioni siano fatte tramite una procedura di evidenza pubblica, cosa che invece i lavoratori di Abruzzo Engineering, ma non per colpa loro, semplicemente perché sono stati assunti da una società che non era in house, non hanno. Di conseguenza questo profilo inficia un po' il loro lavorare per una società che è assolutamente in house. Inoltre quello del Consiglio regionale non è l'unico scoglio da superare per il salvataggio di Abruzzo Engineering. I ricorsi potrebbero arrivare infatti dal Governo centrale e da Bruxelles a causa di alcuni tecnicismi. Mancanza di controllo analogo su alcune delle attività che si affidano alla nuova società e sul fatto che una società viene definita una società in house però si andrà a occupare di attività che non sono strettamente necessarie a ciò che la Regione deve fare. Per il momento, comunque, 180 lavoratori hanno tirato un sospiro di sollievo ma il presupposto perché il piano industriale finalmente funzioni è che ad Abruzzo Engineering vengano effettivamente affidati in carichi diretti e che i compiti svolti dalla società siano indispensabili per la Regione Abruzzo pena una pioggia di possibili ricorsi. Tutte questioni evidenziate anche dal centrodestra che però alla fine si è astenuto dal voto. Noi ci siamo astenuti perché ritenevamo che soprattutto nelle ultime 4-5 ore si potesse lavorare per cambiare o meglio per correggere alcune cose che ci sono state segnate dai tecnici a portare alcune modifiche che tecnicamente potrebbero ci auguriamo di no, potrebbero crearci qualche problema rispetto al governo nazionale e rispetto a Bruxelles. Speriamo ci auguriamo di no perché credo che oggi sia un passo importante per l'Abruzzo e soprattutto per questo territorio. Il dubbio resta comunque il solito. Abruzzo Engineering sarà in grado adesso di camminare sulle sue gambe? Il Movimento 5 Stelle dice di no. Noi non siamo sicuri che questa operazione comporti la creazione di una società in house capace di sostenersi con le sue gambe. Di conseguenza che cosa succederà? Che la società la dovremo sostenere noi mettendo una nuova tassa sopra i cittadini abruzzesi. E anche ieri in occasione del Consiglio regionale i comitati contro la chiusura dei quattro punti nascita sono tornati a protestare con cartelli e striscioni. Nuova protesta dei comitati contro la chiusura dei punti nascita di Ortona, Penne, Sulmona e A. C'è stato un errore di messa in onda con il servizio. Chiedo alla regia se è pronto quello relativo alla protesta del Movimento 5 Stelle che ha votato contro la legge di salvataggio dell'azienda Abruzzo Engineering. Altrimenti vado avanti con il telegiornale. E allora passiamo alla protesta che si è svolta ieri in occasione del Consiglio regionale dei comitati contro la chiusura dei punti nascita. Nuova protesta dei comitati contro la chiusura dei punti nascita di Ortona, Penne, Sulmona e Atri disposta dal commissario ad acta D'Alfonso e dall'assessore regionale della sanità Paolucci per il rientro del deficit sanitario e per la mancanza di standard di sicurezza. I comitati hanno manifestato con l'esposizione di cartelloni e striscioni. I cittadini vogliono chiarezza sulle vere motivazioni che hanno spinto la regione ad emettere il provvedimento di chiusura. Lucia Di Nucci del comitato di Ortona. Non è detto che chiuda il punto nascita di Ortona perché ci sono due ricorsi anzi ce ne sono tre uno fatto direttamente dall'ospedale quindi dalla dottoressa Mucci il ricorso fatto al TAR direttamente dal comune di Ortona e un esposto alla procura della Repubblica di cui attendiamo delle risposte firmato da diversi città centinaia di cittadini ortonesi perché chiediamo delle risposte a ciò che stanno facendo perché ci sembra una grandissima ingiustizia si stanno arrambicando sugli specchi ci stanno dando delle false risposte perché prima l'assessore Paolucci diceva che la problematica del numero dei parti il numero dei parti Ortona ce l'ha poi il bacino d'utenza il bacino d'utenza ce l'ha poi gli standard di sicurezza i standard di sicurezza ci sono allora vogliamo capire dov'è il problema perché noi non l'abbiamo capito il problema è solo una questione economica a questo punto quindi si stanno arrambicando sugli specchi che dicessero perché la vogliono chiudere ci mettessero la faccia perché noi l'anello al naso l'abbiamo tolto da tempo i comitati chiedono che D'Alfonso e Paolucci facciano un passo indietro mentre il gruppo regionale di Forza Italia chiede le dimissioni dell'assessore alla sanità al termine della lunga giornata di ieri comunque una nota positiva c'è stata l'assessore Paolucci su indicazione di D'Alfonso ha interessato il presidente del comitato ottenendo la convocazione di una nuova riunione per domani alle 12 un risultato importante e di una nuova riunione 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.